3 giornate in eccellenza, 4 dalla promozione alla terza categoria, ecco quanto manca al termine della regular season, poi sarà la volta di playoff e playout. Dopo aver ripassato e imparato a memoria il regolamento che porterà gli spareggi per la promozione alla salvezza, c'è chi si scontra con la dura realtà della classifica. Proviamo quindi a fare il punto della situazione tenendo in considerazione il fatto che in nessun campionato è attiva al momento la forbice dei 10 punti in chiave playoff. In eccellenza l'Aquila Montevarchi ha già salutato tutti ed è salita in Serie D. Di sicuro in eccellenza si faranno i playoff che interesseranno 4 formazioni, al momento ci sono 5 squadre in 2 punti, Zenit, Baldaccio, Grassina, Fortis sono sul trenino playoff, attenzione però alla Bucinese e alla Castiglionese che potrebbero arrivare di rincorsa. In chiave playoff la situazione a dir poco infocata, il Foiano ha più di un piede in promozione, la Sansovino prossima avversaria degli Amaranto con i risultati di domenica scorsa a 10 punti di ritardo sulla quinta ultima e ciò significherebbe retrocessione diretta e playoff ridotti a Porta Romana e Sestese. In promozione c'è ancora molto da dire per il primo posto, mentre per quanto riguarda i playoff la situazione è davvero difficile. In coda al gruppo il Sochi sta preparando i bagagli insieme a Lucignano penultimo con 20 punti e dovendo recuperare almeno una lunghezza dalla quinta ultima a Ponta Sieve. Se ciò dovesse accadere i playoff sarebbero ad oggi Subbiano-Ambra. In prima categoria le posizioni nobili sono ancora in ballo. In coda al gruppo l'Olmo-Ponte con i suoi 11 punti e Castiglion-Fibocchi con 12 a quattro giornate dal termine hanno già salutato la prima categoria. La quinta ultima a quattro giornate dalla fine del campionato ha 34 punti. Ecco allora una situazione davvero particolare. Il playoff è già scritto, sarà Rezzo Football Academy Bibbianese che avranno quindi adesso più di un mese per prepararsi all'appuntamento che vale un'intera stagione. In seconda categoria Girone L prosegue il testa-testa Rassina-Vattifolle. Corrono per il primo posto e dalla loro classifica dipenderà l'accesso ai playoff, visto che la quinta in classifica al momento è distante 9 punti a un passo dall'attivazione della forbice. Per i play-out il palazzo del Pero quinto ultimo ha solo 5 punti sul terzetto formato da Capresana, Tuscar e Fortis che andranno a play-out. Attenzione però in seconda cambia la formula degli spareggi salvezza. Senza la forbice andranno allo scontro quinto ultima contro penultima, quart'ultima contro terz'ultima. Le due perdenti si affronteranno nella finale play-out, chi perde va in terza. In seconda categoria Girone N il Tecoleto è un passo dal ritorno in prima. Un pari della Virtus Asciano e una vittoria dei Biancorossi varrebbe il titolo già domenica. I play-off ci saranno senza forbice. Il Monsigliolo è già tornato in terza dopo una stagione, mentre i play-out si faranno a pieno regime. Difficile però stilare una griglia, visto che Fratticciola, Geggiano, Virtus Chianciano, Monteccio e Cittadichiusi sono in lotta per evitare uno dei quattro posti.